Chiubrando e Feline con Davide Iacovacci, loro partono con un passivo di 4.37, hanno la testiera numero 6 mentre andiamo ad informare tutti i concorrenti che al termine del primo percorso ci sarà soltanto una breve interruzione per il repristino del terreno del campo prova quindi poi riprenderemo con lo stesso ordine di partenza per il secondo percorso e poi riprenderemo con lo stesso ordine di partenza per il secondo percorso Grazie 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 Grazie